Lo spaccio avveniva anche durante il periodo del lockdown imposto dal Covid-19, con la consegna della droga porta a porta, eludendo i posti di blocco istituiti dalle forze dell'ordine con false autocertificazioni. L'indagine dei carabinieri della stazione di Avellino, partita da novembre del 2019, ha dovuto fare conti con le nuove modalità utilizzate dagli spacciatori nei successivi mesi della quarantena per la consegna della sostanza stupefacente a domicilio. Per questo l'operazione è stata definita dagli inquirenti delivery ed è stata eseguita stamane all'alba dai carabinieri della compagnia di Avellino. In azione a 150 militari con l'ausilio di elicotteri e unità cinofile, 19 le misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica che ha disposto la misura cautelare in carcere per tre indagati, un 24enne, un 47enne, un 53enne, tutti di Avellino, gli arresti domiciliari per arti 13, di età compresa tra i 20 e i 65 anni, residenti in Irpinia e nelle province di Caserta e Salerno, e per i restanti tre l'obbligo di dimora. Nel corso delle perquisizioni domiciliari i carabinieri hanno anche proceduto un arresto per resistenza e minaccia contro il pubblico ufficiale. I 19 indagati, a vario titolo, devono rispondere dell'ipotesi di reato, di detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti attraverso le indagini, svolte con attività tecniche, pedinamenti e controlli. I carabinieri hanno accertato il modus operandi dei pusher che non esitavano a minacciare i clienti e i loro parenti nel caso in cui avessero tardato a pagare le dosi acquistate. Come evidenziato dal colonnello Luigi Bramati, comandante provinciale dei carabinieri di Avellino, nel corso della conferenza stampa di stamane, alcuni dei soggetti coinvolti nell'indagine acquistavano la droga attraverso la somma percepita dal reddito di cittadinanza. In particolare, alcuni tossicodipendenti, non disponendo di denaro, si impegnavano a estinguere il debito, non appena ricevuto l'accredito della misura di sostegno. Fili elettrici, prosciutto crudo, prosciutto cotto, birra, caffè e CD. Erano questi nomi in codice con cui avvenivano le trattative di spaccio tra pusher e assuntori, anche con l'impiego di una minore nel ruolo di intermediaria. In pochi mesi la rete di spaccio si era estesa non solo ad Avellino, ma anche nei comuni limitrofi, fino a sfondare nell'area napoletana e nella provincia di Salerno. Una sessantina di clienti identificati dai carabinieri, tra loro anche molti giovanissimi. Un dato significativo per indicare l'ampio fronte interessato dall'attività di spaccio. Per la prima volta in Irpini ha sottolineato il comandante Bramati. Sono stati individuati tre laboratori artigianali, dove mediante l'utilizzo di rudimentali attrezzature veniva sintetizzata la cocaina per la produzione di crack, sostanza altamente pericolosa per chi l'assume.